Per esempio i Gialappa li ho conosciuti lì e credevo che fossero, per dire, credevo che fossero elio le storie tese, per intenderci, perché avevo conosciuto prima Rocco Tanica, perché poi facendo ognuno vedeva le cose che facevano gli altri, però non avevo chiarissimo le facce, quindi i Gialappa già apparivano delle voci ma non si vedevano, quindi poi ho capito chi erano dopo un po' che li frequentavo, che c'erano delle diversità. Ho conosciuto il signor Carlo prima di tutti e quando ancora aspettavo il primo figlio che oggi è in pensione, quindi è passato molto tempo. No, però per dire, era un bellissimo clima. Ma quindi se arrivava la Gialappas, come oggi, dicevo che c'è la Gialappas che sta vedendo lo spettacolo per trovare qualcuno? No, era molto più, si andava lì e basta, c'era una cosa dove sapevi che più o meno la gente che girava erano più o meno sempre quelli, quindi nessuno pensava che arrivassero lì Gialappa per vedere, poi magari sì. Devo dire che tra i loro meriti loro sono stati, sono tuttora, ne sai qualcosa, sono dei bravissimi pescatori di talenti, di gente... Pensavo di uomini come... Pescatori di uomini, calciatori di testa e pescatori di uomini. No, se posso fare, tra l'altro adesso non ho, diciamo, è una lode che faccio, ma non ho motivi per farlo. Loro, devo dire, che io mi sono trovato benissimo e questa è una cosa che non è stato facile di trovare poi in tv, quando hanno fatto Mindy Regol, io mi ricordo, io ho fatto Mindy Regol per circa 15 anni e la costante era, ogni anno era, dopo le prime due o tre puntate, era quest'anno fate cagare, l'anno scorso sì che era bello ed è stato sempre così, per tutte le edizioni, l'anno scorso sì che era bello, quest'anno fa schifo e poi in questo clima, e qui arriva la lode, loro, devo dire, che hanno sempre puntato all'inizio su una squadra, nel senso voi siete, cioè quelli che vanno in campo siete voi, si proponevano i personaggi e la domanda che loro facevano, questo personaggio ha benzina per 15 puntate e allora dovevi dimostrare che quel personaggio lì aveva stoffa e una volta scelti loro andavano avanti, cioè quella roba lì non è mai successo, cambiamenti in corsa sì, ma non è mai successo che loro abbiano, come dire, bocciato qualcuno dopo tre puntate perché non funzionava, niente ha funzionato mai subito, cioè pochissime volte, e questa scelta è stata molto coraggiosa da parte loro e ha funzionato, mentre in tante altre cose abbiamo visto cose non, che magari poi quelle cose magari meritavano di essere bocciate per carità, però va dato merito che diciamo hanno avuto molto naso a scegliere la gente prima di tutto e poi dargli fiducia, questa è una cosa che per noi poi che facevamo gli autori era una cosa che cambia il mondo proprio da zero a mille. Finisco dicendo che adesso se vedi una puntata, meglio non vederla perché sono delusioni, però idealmente una puntata del 2000, anche del 98, quello che è, quel cast che allora durava un'ora, oggi costerebbe 100 milioni, nel senso in una puntata tu avevi, Crozza, Abisio, La Cortellesi, De Luigi, cioè tutta gente che adesso è chiaro che poi ha una vita o una cosa al di fuori della tv, però quel cast lì sarebbe impossibile rifarlo. Questo ho finito e basta. Ora parliamone male, parlane male tu. Vai, stai, sentiti libera. Solo bene ne posso parlare, sono brave persone. Vabbè, è già tanto. Il signor Carlo non c'è, però pace all'anima sua, anche lui che sta lassù in India. Alla destra di Berlusconi. No, 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 ancora c'è, però volevo dire, tu hai detto che scrivevate giovedì e registravate venerdì, quindi in un giorno si faceva? Beh, si arrivava, beh, scrivevamo, io allora facevo solo Pravettone, che volevo dire, io facevo una cosa che si chiamava la scheda di Pravettone. Il Pravettone era un minuto più o meno di montaggio di immagini di una bruttezza, abbiamo una banca dati di immagini che adesso è impensabile, tutta roba vecchia con righe e così. Essenzialmente era, veramente parliamo di antiquariato, comunque esistevano allora dei programmi, in particolare nella mente mi si era stampato un programma di Minoli, che è stato, è un grande giornalista tuttora, che faceva delle schede per presentare i personaggi. Allora, parlando un po' con questo, c'era questa roba di Pravettone che era l'imprenditore con gli affari del sangue, ma non nel cervello, eccetera. Ed era presentato, arriva un idiota, arriva un idiota, arriva un idiota e poi arrivava l'idiota che era Endel. Quindi veniva caricato a pallettone questo personaggio e poi Endel, di suo, ci ha messo tutto l'endelismo possibile e questo personaggio ha funzionato, infatti siamo andati avanti un paio d'anni a fare questa cosa. Io facevo il giovedì, no, io facevo la scheda, la scrivevo per conto mio soffrendo su ogni riga. Dovevo un minuto, ma ci mettevo una settimana a farla, andavo a montarla, una fatica. Aggiungo sempre per dire, racconti del medioevo, è come il cannibalismo. Allora si montavano in queste stanzette piccole, con macchine di una vecchiaia spaventosa e si poteva fumare. Nelle stanzette di montaggio la gente fumava, c'era una sfera impraticabile nel senso, però, questa era la norma per dire. Quindi al giovedì facevamo lo sketch, al venerdì si registrava e poi andava in onda, mi parla, domenica. Però lo scrivevate anche questo? Lo scrivevamo, certo. No, 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 era tutta roba strascritta e straprovata. No, no, con Endel ci chiudevamo nello stanzino e facevamo. Poi uno magari portava qualcosa, portava il tema, portava l'argomento, però si scriveva lì e poi si provava. Io mi ricordo che si provava tantissimo in camerino prima di farlo e poi, come sappiamo, nei programmi di montaggio così o è buona la prima o la seconda, ma più si rifà e peggio è, perché loro non hanno più quelle reazioni, perché le battute non funzionano più, perché sembra tutto vecchio e quindi doveva essere quella cosa lì per beccare le loro reazioni, eccetera. E ci sono stati anche, quindi tu hai scritto con Endel? Endel ho cominciato con Endel, poi è arrivato Bisio, ho scritto con Bisio, ho scritto con perché poi le cose si facciano sempre insieme, abbiamo fatto una cosa che ci ha fatto, poi l'ho sentito di recente e ci fa sempre ridere, era praticamente il prototipo del procuratore di calciatori che si chiamava Micio ed era una specie di ovviamente un ladro di polli che però aveva vari artisti alle sue dipendenze e Bisio faceva un po' da conduttore. E poi sono arrivati Fabio De Luigi con cui ho avuto l'enorme fortuna con tutti loro, Fabio De Luigi, ho fatto tantissimi personaggi con Fabio, Paola Cortellesi con cui ho fatto tantissimi personaggi. Poi Ubaldo Pantani che è un imitatore eccezionale, è un bravissimo, ma non solo imitatore, ha fatto anche un sacco di personaggi con lui. Sto dimenticando sicuramente qualcuno, qualcosa ho fatto con Crozza, ma Crozza faceva tutto lui essenzialmente. Non so chi mi sto dimenticando, Casalì, e poi Forrest, poi è arrivato all'era Forrest. Io ho fatto l'autore di Forrest per gli ultimi anni di Mani di Regol. Credo che è finito, mi pare, il 2010 se non mi sbaglio e Forrest ha condotto. Forrest per me è uno dei più grandi comici italiani viventi, tutti quelli che ho citato, ma Forrest è una delizia proprio. Un grande culo ho avuto perché lavorare per Forrest, a parte che lui ha dei battutisti fantastici, ma c'ero anch'io immotivatamente con loro in quegli anni lì, che poi ho ritrovato a che tempo che fa, recentemente, e ho fatto due stagioni anche con lui. Sto dimenticando qualcun altro, forse... Infatti poi lui, vedendolo Forrest, mi sembra che ogni tanto le improvvisa, cioè, sembra che le improvvisi anche durante le prove, le battute, però in realtà è tutto molto preparato. Adesso ci sono i famosi aneddoti dei vecchi, una volta lui e io ho fatto un libro e lui molto gentilmente ha accettato di presentare, abbiamo fatto questa presentazione, presentazione in libreria di un libro, quindi quelle chiacchierate che si fanno così. Noi abbiamo fatto le prove della presentazione, siamo andati a casa sua, cioè io e lui facciamo questo, cioè perché lui è ovviamente un grande improvvisatore, però secondo me è proprio l'effigie che l'improvvisazione ovviamente non esiste. L'improvvisazione vuol dire semplicemente pescare da un repertorio enorme con la capacità di fare esattamente quel collegamento in quel momento, il più lontano, poi il più originale e quindi il più adatto, pescando da una cosa che tu hai e lui ha, per dire, sai come quelli che fanno i crostacei che dicono c'è una resa del 10%, cioè un chilo di gamberi poi mangi un etto. La stessa cosa le battute di Forrest, ma anche con che tempo che fa, con i tempi contingentati, noi preparavamo, cioè loro preparavano cinque pagine di roba per dirne metà, cioè questa è la, quindi quella roba lì è comunque fa materia che poi lui usa, ripesca, butta lì e poi ha una bravura che è sua, però è uno che oltre ad essere un grande improvvisatore è uno come uno studente che deve fare la maturità ogni volta.